Musica Claudia Costani e Ornella Comi, a nome dei 126 commercianti e artigiani di Merate, che sentono il dovere di ricordare con gratitudine tutti coloro che hanno permesso di realizzare la tombolata del 2008, a partire da gli sponsor, che sono stati importantissimi per quell'operazione qua, che attraverso le inserzioni pubblicitarie hanno contribuito anche alla realizzazione delle tante manifestazioni promosse in tutto il mese di dicembre. L'associazione Alpini, ancora troppo, di via Papa Giovanni XXIII, il centro culturale e ricreativo di piazza Don Minzoni, che hanno messo a disposizione le loro sedi per la distribuzione delle cartelle della tombola. E l'iter è stato un lavoro impegnativo perché erano 15 persone. I numerosi volontari che in quelle sedi si sono dedicati con attenzione alle regole delle consegne delle cartelle e a quelli impegnati durante lo svolgimento della tombolata, che anche giù giù l'ha andata benissimo. La protezione civile e gli amici dei pompieri, che anche in questa occasione hanno messo a disposizione uomini, tempo e mezzi con la consueta disponibilità.